Sono Andrea Bellorini e collaboro col Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria. Il diritto civile di cui mi occupo sta conoscendo una fase di grandi cambiamenti in linea con le trasformazioni politiche, economiche e sociali in atto trascende sempre di più la dimensione nazionale per assumerne una europea all'interno della quale deve essere costantemente aggiornato. Le mie ricerche intendono inserirsi in questo panorama. Lo studio che sto sviluppando, grazie al prezioso supporto dell'Università e sotto la guida di esperti docenti, analizza i rapporti fra la proprietà e il tempo, dal trasta alla proprietà temporanea, contribuendo a identificare la disciplina applicabile a istituti tanto recenti quanto complessi per evitare situazioni di incertezza nocive per l'ordinamento giuridico. Il nostro Dipartimento, con il suo approccio multidisciplinare e internazionale, ci consente di affrontare le nostre ricerche con una visione ampia dei problemi, grazie al costante confronto con discipline contigue al diritto. Da qui l'importanza di sostenere una realtà che decide di investire nella ricerca e in ultima analisi nel progresso. Grazie e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.